Noi fumo i gattopardi, i leoni, che ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene. E tutti quanti, gattopardi, leoni, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra. Credo di non aver capito bene, come ha detto. Niente, niente. Scusi, come ha detto, non ho sentito. Scusi, come ha detto, non ho sentito.